I laureati ed occupati, un divario che si presenta ancora piuttosto ampio, cosa può fare di ancora più concreto l'università nell'ottica di ridurlo? Nei fatti i laureati del nostro Ateneo risultano avere un lavoro sia a un anno ma ancora di più a tre anni dalla laurea in percentuali molto alte. Sono percentuali e dati noti, provengono da un osservatorio terzo quale Alma Laurea e quindi una laurea in una università di prestigio come l'Università di Catania sicuramente consente di raggiungere gli obiettivi previsti. Quello che posso dire ai ragazzi e alle ragazze è iscrivetevi all'università. Perfetto, un ringraziamento al magnifico rettore dell'Università di Catania. Grazie a tutti.